A fine ottobre uscirà l'ormai famosa graduatoria del bando Farecentro. Entro due mesi al massimo, dunque, si conosceranno i beneficiari dei finanziamenti di questo bando che stanzia sostanzialmente 12 milioni di euro per incentivare il rientro delle attività economiche nel centro storico dell'Aquila e nei comuni del Cratere. Le domande sono 766 in totale ed una commissione di 12 persone le esaminerà. Il bando, da alcuni criticato per la forma e per i tempi di uscita, ha avuto un grande successo, visto comunque il numero delle domande e, visto che andrà avanti a step, consentirà il rientro delle attività, ma gradualmente. Farecentro, lo ricordiamo, è scaduto il 15 luglio scorso, dopo una proroga di 15 giorni, e l'idea della regione è di far scorrere la graduatoria in modo che coloro che l'hanno passata possono accedere al finanziamento. Come è noto, il bando è suddiviso in diverse categorie. 236 sono state le domande per il rientro delle attività nei centri storici, 527 per il trasferimento di attività o avvio di nuove, 4 per il processo di riqualificazione urbana di Viale della Croce Rossa e per favorire il rientro di attività, di ordini professionali, associazioni di categoria e sindacati.